Siamo arrivati in acqua ma si è allenzato dai guarda il distributore no il distributore ciao oh ma il letto il letto ma è di là dall'altra parte no c'è più il barretto del trale è più il titolo è più il titolo è più il titolo no il titolo dai dai è un po' più tranquillista no il titolo è troppo veloce va andando a picchia va andando a picchia va andando a picchia va andando a picchia no vabbè pigia più il tracino no il titolo è più il titolo hai visto la picchia vai di là ma è più il titolo hai visto la picchia è più il titolo è più il titolo è più il titolo era di là veniva meglio di là ma no vuoi che staccare bene ma c'è più i tre E' un'allenda, sta calda. No, non c'è più nulla, è la lana che non fa calcolare. E' la lana che non fa calcolare. E' la lana che se le rompi l'alti. Grazie a tutti.